L'Expressway di Lusail City ha vinto il sesto premio annuale Best Project Global da Engineering News Record. Il Global Best Project identifica e onora il team di progettazione e costruzioni eccezionali. Situato in una zona vitale, l'autostrada vuole collegare Doha con Lusail City e molte destinazioni pubbliche, nonché la perla a nord. Katara è l'area diplomatica. È un gran numero di aree residenziali come hotel, centri commerciali e altre strutture. Il progetto si estende per oltre 5,5 chilometri dalla città di Lusail a nord fino alla zona di Vestby a sud, che comprende tre interscambi multilivello oltre a tre ponti marini nei pressi della città di Pearl e Lusail. La carreggiata principale di Lusail Expressway sarà composta da quattro corsie in ogni direzione, oltre a un gran numero di strade di servizio per collegare le diverse destinazioni con la superstrada. La progettazione del progetto significa anche migliorare la sicurezza del traffico per i pedoni e fornire uno stile di vita sano, attraverso la costruzione di 6,5 chilometri di percorsi separati per pedoni e ciclisti. I ponti marini sono il North Canal Crossing Bridge che sarà compostato di sei corsie in ogni direzione. Vuole fornire un accesso diretto allo sviluppo della città di Lusail e alle aree nord del Qatar dalla città di Doha. Il canale sud invece sarà compostato di otto corsie in ogni direzione, situate tra le intersezioni di Onaiza e Pearl. Nel progetto sono state utilizzate più di 345 tonnellate di acciaio rinforzato e più di 345.000 tonnellate di asfalto, con la partecipazione di oltre 4.000 lavoratori. Lusail Expressway è un'architettura iconica con caratteristiche ispirate al patrimonio marino e forma una combinazione del passato e del futuro del Qatar, dato che è la principale superstrada sul lungomare che si estende sulla costa settentrionale della città di Doha. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il filmato. Se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo con i tuoi amici se lo hai trovato interessante, iscriviti al canale e schiaccia sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video. Grazie a tutti.